L'azienda è lo specchio dell'imprenditore. Le circostanze non sono mai quello che sembrano. Il marketing è solo esterno. Il lavoro duro oggi è legato all'emotività. La prima volta perché mi hai scelto? La seconda domanda perché mi continui a scegliere? Il marketing deve fornire curiosità. Perché ne ho bisogno o perché lo desideri? Scelgo perché ne ho bisogno. Il valore è sicuro che è basso. Il marketing deve fornire. Il marketing deve fornire. Il marketing deve fornire, è sicuro che ci vuoi. Grazie a tutti